ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi oggi voglio spiegarvi come si fa a droppare so che ci sono già un sacco di tutorial su youtube o comunque online vedo di spiegarvelo un po a modo mio per vedere se magari riesco a togliere qualche dubbio a chi ancora non ha capito bene come si fa ad affrontare un drop allora innanzitutto facciamo un po di chiarezza su cos'è un drop e cos'è un salto e la differenza il drop è un salto però è un salto che ti proietta verso il basso invece il salto vero e proprio è il salto che ti proietta verso l'alto quindi con un kick con una rampa e su quelle venite proiettati verso l'alto invece nel drop si avete un attimo magari di di spinta verso l'alto ma poi il salto tende ad andare verso il basso quindi il drop è semplicemente un salto verso il basso la tecnica è molto semplice semplicemente sulla rampa si approccia un manual ovvero dovete fare in modo che prima che la ruota esca dalla rampa inizi già a salire quindi dovete tirare sull'anteriore e l'anteriore deve restare alto fino a quando la ruota posteriore non esce dal drop ok se la ruota posteriore è ancora sul drop e l'anteriore scende siete fregati perché poi non lo riuscite più a tirare su ovviamente se il drop è basso vi salvate ma se lo fate su un drop di due metri vi posso garantire che la pagate anche cara una cosa molto importante quando si droppa è la velocità più andate veloci e più il drop è facile per quale motivo perché i secondi che passano da quando la ruota anteriore esce fuori a quando esce quella posteriore se andate molto forte il tempo è molto breve quindi dovete dare semplicemente un input alla bici quindi dovete tenere sull'anteriore per pochissime frazioni di secondo se invece andate molto piano cosa succede il tempo si allunga tra una ruota e l'altra e quindi l'input che date alla bici sarà molto più lungo e molto più forte e faticoso quindi cercate di andare sempre abbastanza veloci sui drop perché risulteranno anche molto più facili per imparare potete fare due semplici esercizi che sono quello di posizionare due oggetti due punti di riferimento uno un po lontano dall'altro e poi cosa fare quando si arriva sul primo si solleva l'anteriore e si cerca di arrivare fino al secondo quando ci riuscite ovviamente dovete piano piano in maniera progressiva allontanare il secondo oggetto di riferimento che può essere un cinesino un birillo un sasso quello che volete importante che abbiate due punti di riferimento da dove partire e da dove finire quindi aiutandovi col peso state indietro con sedere spalle testa alzate l'anteriore e cercate di arrivare fino al secondo punto di riferimento ok il secondo esercizio invece quello di usare un marciapiede possibilmente anche un pelo altino quindi non il marciapiede alto due centimetri però marciapiede classico un po alto e l'esercizio è quello di riuscire a uscire dal marciapiede e atterrare a ruote pari ok quindi si tiene su l'anteriore fino a quando la ruota posteriore non esce e si atterra a ruote pari sarebbe gioco provare con tante velocità ovviamente più piano andate più livello di difficoltà si alza e meglio le imparate per quale motivo perché dovete tenere l'anteriore alto per più tempo quindi allenatevi anche su questa cosa su l'andare forte e l'andare piano perché poi ci sono dei drop che vanno affrontati con velocità basse e anche lì bisogna saper fare allora ragazzi in sostanza è questo quando si esce quando si arriva sulla rampa si tira sul davanti fino a quando quella dietro non è uscita non è uscita se il video vi è stato utile mettete un like iscrivetevi al canale e alla prossima ciao